Una bambina di soli 9 mesi di vite di 7 kg è stata sottoposta a un incredibile intervento chirurgico di asportazione di un tumore raro presso l'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. La piccola fortunatamente sta bene ed è già a casa con i genitori. La complessità dell'intervento stava anche nella grandezza del tumore. Aveva deviato a destra la trachea e il cuore, aveva occupato quasi totalmente l'emitorace sinistro, comprimendo pressoché completamente il polmone. Le immagini tacchi inoltre non potevano escludere con certezza il coinvolgimento diretto del polmone nel processo espansivo, ha spiegato Leonardo Montinaro, responsabile dell'unità operativa di chirurgia pediatrica dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII. Grazie 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 Grazie